Buongiorno, in veste di membro del comitato scientifico del piano urbano per la mobilità sostenibile della città metropolitana di Torino, credo che sia opportuno mettere l'accento su alcuni aspetti salienti del lavoro che si è svolto fino ad oggi nell'ambito della struttura tecnica allestita dall'istituzione metropolitana per redigere questi scenari di breve, medio e lungo termine riferiti alla mobilità sull'intero territorio della città metropolitana. Occorre ricordare che la città metropolitana di Torino ha una peculiarità che forse la distingue da molte altre città metropolitane, soprattutto del nord Italia, è un'area estesa caratterizzata da componenti insediative diverse che portano con sé domande di mobilità diverse che sono connesse con le caratteristiche funzionali, fisico-materiali ma anche economiche che caratterizzano questa complessa società metropolitana. E quindi il lavoro svolto ha prima di tutto puntato a definire tre componenti territoriali essenziali, la città di Torino propriamente detta nel senso diciamo della componente più densa dell'area metropolitana, compresa nei confini della vecchia provincia di Torino, che presenta caratteristiche tutt'affatto specifiche della dimensione urbana, dell'urbano denso. Quindi i temi che sono emersi in questo tipo di area territoriale hanno a che fare con la sicurezza, con la qualità dell'aria e dell'ambiente acustico, con l'estensione e la qualità del trasporto pubblico alla scala non soltanto propriamente cittadina ma nelle sue relazioni con l'esterno e la logistica urbana. La seconda componente che è comunque una componente dalle spiccate caratteristiche urbane è la cintura, la cosiddetta cintura metropolitana costituitesi nel corso del tempo attraverso i processi di realizzazione dei grandi insediamenti industriali, quindi tutto attorno alla città di Torino, che presenta caratteristiche comuni con la parte del core, la parte centrale, ma allo stesso tempo anche delle caratteristiche sue proprie che riguardano il fatto che sono territori strettamente connessi con i luoghi centrali della città metropolitana. E il terzo aspetto, o meglio la terza componente, è il territorio che travalica la cintura, la cosiddetta metrovincia, questa vasta estensione territoriale che via via che si allontana dal centro presenta caratteri sempre meno spiccatamente urbani, anche se dobbiamo essere convinti di un aspetto che la condizione urbana è una dimensione che ormai travalica gli aspetti puramente fisici, quindi comunque caratterizza anche le aree meno dense, quindi anche le aree più distanti, quelle che ci sembrano aree con caratteristiche ancora addominanti e rurali. In realtà oggi noi sappiamo che queste aree hanno problemi rilevanti di accesso e di integrazione che devono essere quantomeno parificati a quelle delle aree più centrali, perché in molti oggi si muovono dalle aree anche più lontane per lavorare in città e al fenomeno altrettanto importante esiste una componente insediativa rilevante di persone che vivono in montagna ma che hanno attitudini, stili di comportamento e domande di carattere spiccatamente urbano. E anche qui ci sono temi che ovviamente intrecciano le specificità economiche di queste aree che hanno a che fare con il turismo, con la transizione energetica e anche la qualità dell'aria. Ecco, queste sono le tre componenti sulle quali si è esercitato il lavoro dei tecnici che hanno inquadrato il sistema territoriale, hanno dovuto costruire anche un mosaico degli interventi in corso, della programmazione prevista, che deve costruire in qualche modo la dimensione invariante di tutti gli scenari. Quindi questo è un lavoro importante che è stato condotto, diciamo, in parallelo alla raccolta e all'interpretazione dei dati invece sulla mobilità, sulla domanda e sull'offerta di mobilità, che si sono proiettati su tre orizzonti temporali, il breve termine al 2025, il medio termine al 2030 e il lungo termine al 2040. Ci sono almeno tre aspetti importanti su cui occorre che i stakeholders e tutti coloro che partecipano al lavoro del PSM devono, a mio modo di vedere, tenere in considerazione. Sono raggruppabili sotto, diciamo, tre categorie appunto che hanno a che fare con le tendenze sociali, con le tendenze insediative ed economiche e le tendenze tecnologiche. Tutte queste tre componenti evidentemente acquistano un carattere di maggiore complessità e vorrei dire anche di incertezza alla luce dell'emergenza pandemica che stiamo ancora vivendo nella sua seconda ondata, che in certo senso è conclamata e che chiaramente induce a riflettere su alcune modalità consolidate di mobilità e sulle future scelte da prendere in relazione a questi aspetti. È chiaro che alcuni aspetti che hanno a che fare per esempio con l'uso del trasporto pubblico, con il trade-off, il rapporto di sostituzione tra trasporto pubblico e trasporto privato, che evidentemente è andato a favore di quest'ultimo nell'ultima fase in cui il Covid-19 ha scoraggiato l'uso dei mezzi pubblici. La stessa mobilità condivisa di cui abbiamo sempre segnalato l'importanza evidentemente presente a dei caratteri di problematicità che dobbiamo essere in grado di affrontare anche in situazioni di emergenza. Ecco, abbiamo questi aspetti che sono più propriamente, diciamo, relativi alla componente sociale che si integrano con tendenze di lungo periodo delle dinamiche sediative ed economiche, che sono, come sappiamo bene, lo spopolamento progressivo di molte aree montane, ma allo stesso tempo il ripopolamento selettivo di alcuni contesti montani, che ci è segnalato da alcune analisi qualitative che sono state condotte recentemente anche dalla città metropolitana. La diminuzione dei residenti di Torino, che però non significa diminuzione totale dei residenti metropolitani, perché questa diminuzione è compensata dall'aumento degli abitanti della prima cintura. Ecco, che ruolo ha il sistema di trasporto in questi processi e soprattutto quale è il sistema di trasporto e in generale il quadro della mobilità che possiamo riferire agli effetti di una deindustrializzazione che è tuttora in corso e che chiaramente cambia anche la geografia dei poli di attrazione e più in generale dei servizi collettivi che oggi caratterizzano tutto il territorio metropolitano. Non dobbiamo dimenticare che Torino e la città metropolitana, ma soprattutto l'area più densa, sta soffrendo un periodo ormai lungo di stagnazione, se non di declino, che riguarda molti aspetti e che è indicato da molti indicatori. Ci sono numerose analisi anche sofisticate che mettono in evidenza come tutto il nord-ovest, ma in particolar modo il nostro territorio, sia ormai in condizioni di progressiva marginalità rispetto alla piattaforma milanese e rispetto al nord-est nel quadro della grande regione del nord e questo è un aspetto che non possiamo dimenticare perché è connesso con una serie di elementi strutturali su cui il PUMS non può agire, il PUMS deve reagire a condizioni strutturali determinate da altri effetti. Però l'interazione tra una mobilità adeguata al cambiamento di cui dobbiamo essere consapevoli può determinare una migliore qualità della vita e questo può dipendere, anzi dipende senz'altro anche dalla capacità di cogliere le tendenze tecnologiche in corso. Pensiamo per esempio all'uso delle tecnologie digitali nel cosiddetto smart working che può sostituire adeguatamente certe funzioni che in un tempo erano affidate alla mobilità fisica delle persone e in qualche caso anche alla mobilità dei beni e quindi bisogna pensare a che cosa comporta in termini di svuotamento di grandi aree monofunzionali delle persone che abitualmente vi svolgevano le proprie attività in termini di opportunità per il sistema dei trasporti e più in generale direi anche per una ridefinizione delle funzioni a scala metropolitana. E questo è un aspetto che è propriamente oggetto dell'attività del piano strategico metropolitano. Domandarsi quali siano gli scenari verso i quali andiamo che il Covid-19 in qualche modo ha accelerato. Io non credo che saremo di fronte all'indomani del Covid-19 a una radicale trasformazione della fisionomia funzionale delle aree metropolitane. Come ci insegna la storia nel corso del tempo le grandi città hanno sempre saputo affrontare con efficacia adattiva i grandi mutamenti legati anche alle pandemie. Tuttavia questo significa un atteggiamento non solo proattivo da parte dei decisori politici ma anche una considerazione realistica dei fattori del cambiamento che sono come dicevo chiaramente negativi per quanto riguarda molti indicatori, molte variabili del tessuto socio-economico della nostra realtà metropolitana. E quindi questo si intreccia chiaramente con aspetti che trascendono la dimensione pura della mobilità ma hanno a che fare con la sapienza diciamo così interpretativa e il disegno del futuro che è una caratteristica propria delle attività di pianificazione strategica. Quindi direi che il fatto che i due strumenti stiano lavorando in concomitanza sia un'occasione preziosa per non perdere l'occasione per lavorare sulle invarianti strutturali e sulla dimensione della mobilità e delle infrastrutture che può accompagnare queste tendenze o le può anche in un certo senso condizionare e guidare verso condizioni di maggiore benessere collettivo. Grazie.